benvenuti a questo nuovo incontro di spazio per tutti sono io sono marco del gruppo astrofili savonesi e questa sera abbiamo con noi ferdinando pattat niente poco di meno che dell'eso cioè del nostro osservatorio europeo nell'emisfero sud oggi però lui è collegato da monaco poi vabbè luigi del gruppo astrofili polari si ve lo presenterà poi più adeguatamente e poi vi ricordo il prossimo appuntamento venerdì 14 maggio cioè venerdì prossimo avremo con noi albino carbogiani dell'inaf e paolo bacci dell'osservatorio montagna pistoiese e parleremo del rischio asteroidi quindi la classica domanda che ci si sente porre abbastanza ogni tanto ma gli asteroidi il pericolo non il pericolo ne parleremo insieme a loro e ringrazio appunto ferdinando per aver accettato il nostro invito essere qua con noi sandro che fa sempre cabina di regia e roberte andrea che invece rimbalza nei segnali su youtube letizia che ci aiuta con la gestione della stanza zoom non rubo altro tempo alla serata lascio la parola luigi che vi presenta ferdinando buon ascolto e buona buona visione a tutti allora buonasera di nuovo a tutti e questa sera abbiamo una serata internazionale per spazio per tutti perché appunto come accennava marco ci colleghiamo con la germania e abbiamo come relatore nando patat che è un astronomo italiano che lavora in germania presso l'eso l'osservatorio europeo australe nando è un un astronomo che ha studiato appunto a padova si è lavorato in astronomia ha un dottorato di ricerca in astronomia e dal 2000 lavora presso appunto l'osservatorio australe europeo dove fra l'altro ha un ruolo molto importante perché in questo momento dirige l'ufficio della programmazione dei programmi osservativi di tutto l'eso quindi è un ruolo veramente importante ed è un un onore e un piacere averlo però nella sua attività di ricerca è un grandissimo specialista di supernove e siccome è il suo campo di ricerca dove ha pubblicato oltre centosettanta articoli contributi nell'ambito delle supernove gli abbiamo chiesto la gentilezza di essere nostro ospite questa sera per parlarci appunto del suo campo di ricerca eh noi lo conosciamo oltre che per le sue eh per i suoi studi e per il suo ruolo nell'eso anche come un eh divulgatore bravissimo sopraffino e siamo quindi molto contenti che abbia accettato il nostro invito e questa sera ci possa parlare di del suo campo di ricerca. A questo punto non vi elenco tutti i suoi studi tutti i traguardi che ha raggiunto che sono tantissimi e eh ti passerei la parola in modo che iniziamo la serata la presentazione. Eh grazie Luigi eh buonasera a tutti mi fa un grandissimo piacere essere con voi lo dico sempre mi fa sempre piacere essere con le persone che condividono la passione della mia vita che è l'astronomia che è una passione che mi ha accompagnato da quando ero un piccolo e giovane astrofilo che ha visto le prime ha visto i suoi primi piccoli telescopi nella pianura friulana fino a realizzare il grande sogno che era quello di poter mettere non più l'occhio come sapete ma poter mettere le proprie mani sulla console di controllo di uno dei più grandi telescopi del mondo. Allora io inizierei subito a condividere eh il mio schermo così che possiamo iniziare eh la presentazione perché voglio fare subito la cosa più importante che è quella di eh ringraziare ehm gli organizzatori quindi un grazie molto sentito a Luigi Pizzimenti a tutto il gas ma anche a Marco a Sandro Andrea a tutti quelli che questa sera rendono possibile questo collegamento in queste condizioni così particolari e voglio anche ringraziare eh due miei colleghi che mi hanno fornito del materiale che vi mostrerò questa sera il primo è Bruno Leibungut eh membro del team che ha preso il premio Nobel per le supernove nel 2011 e un carissimo amico nonché un grandissimo astronomo e grande professionista Alessandro De Angelis e poi eh capirete perché. Iniziamo subito con il settare lo palcoscenico con un'esplosione. Ecco va detto subito che questa sera credo eh in sala chiamiamola così in questa sala virtuale ci siano molti appassionati di esplosioni molti che come me quando ero bambino hanno fatto saltare per aria diverse cose in diverse parti della casa con grande gioia e tormento dei genitori mi ricordo di aver svegliato mia nonna che pur sentiva poco con un'esplosione fatta con l'idrogeno insomma le esplosioni mi sono sempre piaciute quelle a scopo pacifico naturalmente. Quello che avete visto naturalmente era una finzione era l'esplosione della supernova del 1054 che tutti sapete è quella che ha dato origine alla nebulosa del Granchio. La vedete qui questa è una delle supernove conosciute più antiche la conoscete tutti anche voi e è stata riportata in diversi annali. I più famosi sono quelli cinesi in cui scrivono i cinesi nel primo anno del periodo Qi Hou nella quinta luna il giorno Qi Chou una stella ospita e così la chiamavano è apparsa alcuni pollici misuravano le distanze angolari col pollice alla lunghezza del braccio a sud est di Tian Kuan dopo più di un anno essa è divenuta gradualmente invisibile già questo mi dà l'idea della scala del fenomeno un oggetto che prima non si vedeva che diventa visibile in pieno giorno e che resta brillante osservabile ad occhio nudo a mille anni fa per un anno e questo viene dagli annali sunshi della dinastia sung non è l'unico record che abbiamo di questa supernova in basso a destra dovreste vedere anche il cursore della del mio mouse in basso a destra avete una rappresentazione c'è una mano umana una luna e una stella molto brillante a fianco della luna è la stessa supernova vista da un altro punto del pianeta all'epoca ovviamente la chiamavano una stella ospite una stella nuova non sapevano ancora di che cosa si trattava la supernova molto importante che anche che tutti conosciamo è quella del 1604 quello che vedete in questo momento è una ricostruzione fatta con stellarium siamo a padova la latitudine di padova alla fine del mese all'inizio del mese di ottobre del 1604 vedete c'era una congiunzione che tutti gli astronomi dell'epoca stavano osservando marte passava molto vicino a giove che si trovava anche vicino a saturno quindi gli occhi di molti astronomi erano rivolti in quella direzione fra questi astronomi c'era anche il nostro carissimo con nazionale padre spirituale di tutti gli astronomi in particolare di quelli italiani e cioè galileo galilei e allora ci facciamo raccontare da lui come sono andate le cose e qui ringrazio di nuovo alessandro de angelis che mi ha fornito il testo in latino poi ho trovato la traduzione in italiano e ve lo faccio sentire direttamente con le voci con la voce di galileo almeno così come la io così come io me la immaginerei che plero l'aveva osservata la vedete in questa carta nei piedi del serpentario l'ha indicata come questa stella n che sta per stella nova e galileo purtroppo a padova il tempo era coperto per cui nei giorni immediatamente successivi alla scoperta quindi all'esplosione dell'oggetto non ha potuto osservarla ma si è rifatto nei giorni successivi e così ha scritto quello che ascolterete che galileo vi racconterà e quello che lui ha scritto per la prima di tre delle lezioni che ha tenuto all'università di padova poi sono destinate a diventare molto famose lux quedam peregrina die decima mensis octobris anni huius millesimi seccentesimi quarti primum in sublimi conspecta est a principio quidem mole ex igua mox paucis interiectis dievus magnopere una luce estranea il 10 ottobre di questo 1604 per la prima volta fu vista in cielo inizialmente di debole consistenza ma in seguito passati pochi giorni grandemente aumentata da superare tutte le stelle sia le fisse sia le mobili ad eccezione della sola venere luce splendidissima e interamente sfavillante al punto da sembrare nel vibrare della luminosità quasi spegnersi e subito riaccendersi luce che supera in splendore quello di tutte le stelle fisse compreso lo stesso cane simile per il colore della luce allo splendore dorato di giove e al rossastro colore di marte mentre infatti contrai tremendi raggi e dall'idea errata di uno spegnimento si presenta quasi incandescente a causa del colore rosso di marte ma mentre diffonde i raggi in modo più ampio come se rivivesse si mostra splendente del bagliore di giove dal che qualcuno non ha torto sarebbe portato a credere che tale luce sia stata generata dalla congiunzione di giove e di marte e questo inoltre soprattutto perché appare generata quasi nello stesso luogo e nello stesso tempo nella congiunzione dei citati pianeti il 9 ottobre infatti alle 5 del mattino si verificò la congiunzione di giove e di marte davanti a saturno situato a 8 gradi soltanto da essi verso occidente nel qual tempo osservando tale congiunzione non abbiamo visto in quella zona nessun'altra stella oltre le tre citate la sera seguente cioè il 10 ottobre al tramonto del sole si vide innanzitutto questa nuova luce e mentre inizialmente appariva debole e piccola ben presto nel giro di pochi giorni raggiunse una notevole dimensione non sarà fuori luogo supporre che quella nuova luce sia stata generata al momento della citata congiunzione e data la tenuità sia rimasta nascosta non eriti incongruum ecco così scriveva galileo all'inizio della sua lezione che si dice sia stata estremamente seguita la traduzione è di etiofonio e il testo mi è stato fornito in latino da d'alessandro de angelis che l'ha scavato da uno dei volumi dei numerosissimi volumi dell'opera omnia di galileo a cura di antonio favaro avete sentito che galileo e secondo questa cosa si verifica quando c'è questa congiunzione fra marte giove con saturno vicino hanno avevano concluso che doveva quell'oggetto che era apparso così improvvisamente doveva essere una conseguenza di questo incontro mentre non potevano capire qual era il fenomeno astrofisico che l'aveva generata però galileo usando la parallasse aveva concluso che non poteva trattarsi di un fenomeno atmosferico doveva essere oltre l'orbe lunare quindi aveva già fatto un primo conto che non era non era un oggetto extraterrestre non né una cometa e né un vapore come lo chiamavano allora né un vapore che accadeva all'interno della nostra atmosfera nella immagine che segue vedete quello che ci resta di questi due oggetti di cui abbiamo parlato la supernova di che plero del 1572 sulla sinistra il resto visto nei raggi x dal satellite chandra e quella del 1604 detta supernova di che plero che plero in realtà non l'ha scoperta però è stato sicuramente quello che l'ha osservata meglio e subito dopo l'esplosione questo e lo dico subito ha avuto un effetto straordinario nel senso che ha mostrato uno che non si trattava di un oggetto all'interno dell'atmosfera si trattava di un oggetto celeste nel vero senso della parola e mostrava in maniera chiarissima che l'universo era corruttibile si creavano delle cose si distruggevano quindi iniziavano a scricchiolare i pilastri della filosofia aristotelica con le conseguenze che tutti poi conosciamo allora un rapido sguardo alle supernove della nostra galassia quelle che conosciamo grazie ai record diciamo alle registrazioni che abbiamo quelle storiche la più antica del 185 dopo cristo era abbastanza vicina magnitudine meno 8 quindi per gli astrofili questo vuol dire un oggetto molto brillante si vedeva anche di giorno molto probabilmente una supernova di tipo 1 a poi vedremo di cosa si tratta la supernova del 1600 del 1054 del 1181 e poi quella di taico e quella di che plero infine quella di cassiopea che di cui non ci sono non ci sono grandi ricordi perché purtroppo non è diventata al massimo brillante appena appena da essere visibile ad occhio nudo quindi l'abbiamo solo osservata a posteriore se fatto un rapido conto vi viene fuori che nella nostra galassia esplode una supernova circa ogni 250 anni in realtà ho detto la cosa sbagliata volutamente che noi vediamo una supernova all'interno della nostra galassia circa ogni 250 anni in realtà le esplosioni ce ne sono molte di più si calcola circa tre al secolo una ogni trent'anni e mi chiederete ma è dove sono dalla gran parte di queste sono nascoste perché lo sapete la nostra galassia una bella spirale come questa qui vediamo sull'immagine di sinistra vista dall'alto in realtà noi ci siamo dentro quindi assomiglia un po di più vista dal nostro punto di vista alla galassia sombrero e come vedete c'è questa questo disco di polveri molto dense che non ci permette di vedere gli oggetti che esplodono all'interno della galassia soprattutto se sono dall'altra parte rispetto al centro galattico quindi ne perdiamo la gran parte voglio qui ricordare quello ricorderò di nuovo il professor rosino che è stato la persona l'astrofisico che ha portato le supernova in italia perché lo studio lo studio moderno supernova iniziato negli stati uniti tra poco vi dirò anche da parte di chi ma rosino ha importato in italia negli anni 50 negli anni 60 lo studio delle supernove lui diceva ma ormai i tempi sono maturi una nuova supernova galattica dovrebbe esplodere prima che io vada in pensione in realtà poveraccio lui addirittura anche morto prima e la stessa cosa succederà anche a me probabilmente la supernova galattica non la vedremo eppure di supernova nella galassia nel corso di una vita umana ce ne sono almeno due ora fino adesso abbiamo parlato di oggetti all'interno della nostra galassia la prima supernova extra galattica ancora nulla chiamavano supernova si è verificata nel 1885 quando improvvisamente nella bellissima galassia di andromeda del nostro emisfero settentrionale edwin hartwig scopre quella che viene chiamata s andromede è una stella variabile appare improvvisamente ed è il primo oggetto di cui viene fatto visualmente lo spettro avevano uno spettrografo anzi forse sarebbe meglio dire uno spettroscopio guardato lo spettro avevano iniziato a capire che c'era qualcosa di strano c'erano solo delle forti righe di emissione che non si erano mai viste prima la distanza m31 ancora non era ben conosciuta ma fatti due rapidi conti si capiva che doveva essere una supernova che ancora non si chiamava così doveva essere un evento estremamente brillante un altro evento compare dieci anni dopo in ngc 52 53 viene chiamata z c e viene fatto il primo spettro sull'astra ed è così che nasce l'astrofisica delle supernove lo spettro fra l'altro risulta essere molto simile a quello che è stato osservato ad occhio e quindi è stato descritto sulla carta per la supernova del 1885 ed è in quegli anni diciamo all'inizio del secolo che tre personaggi fondamentali tutti e tre dei grandi astrofisici walter bade fritz wiki un grandissimo astrofisico un grandissimo scienziato e rudolf minkowski iniziano a dare una forma strutturale allo studio delle supernove bade e si conoscevano già quelle che venivano chiamate nove e che anche voi conoscete bade che era tedesco usa il termine haupt nove che sarebbe di come a dire le supernove capitali diciamo le supernove capo in qualche modo ziki e bade fanno un passo avanti avanti e dicono perché anziché scoprirle così a caso non organizziamo una supernova search adesso so che nella nella nell'audience stasera ci sono diversi personaggi villi fra tutti ne menziono uno a astrofili italiani che hanno scoperto delle supernove per cui sto parlando a degli esperti ma fare una ricerca di supernove poi ne parleremo una cosa impegnativa soprattutto in quegli anni e fra poco lo conoscerete roberto barbon che è stato il mio professore all'università con cui ho fatto la mia tesi di laura è stato mandato da rosino a imparare questa tecnica da sviki che la faceva girare come un telescopio sotto sopra il tetto dell'edificio di astrofisica del caltech con la stessa in sostanza con la stessa tecnica che usiamo al giorno d'oggi solo che dovevano usare gli occhi organizzano una prima search sistematica siamo nel 1936 quindi quasi cento anni fa con lo schmidt del del monte palmer e minkowski inizia nel 37 lo studio spetroscopico delle supernove inizia la vera e propria astrofisica cioè non ci si limita a guardare ma si fa un passo avanti vuole capire che cosa succede da un punto di vista cinematico cioè quali sono le velocità ma anche da un punto di vista chimico che razza di elementi che cosa sono questi oggetti così brillanti da essere visibili a milioni di anni luce ed è a quel punto ai primi anni 40 che minkowski e bad introducono i tipi 1 e 2 ora questa sera mi terrò molto sul generale però questa cosa la dico perché importante la distinzione che loro fanno è molto semplice le tipo 1 non mostrano idrogeno non ci sono le righe dell'idrogeno le tipo 2 invece mostrano l'idrogeno molto abbondante ora l'idrogeno voi lo sapete l'elemento più abbondante dell'universo quindi è normale che in una stella ci sia l'unico ci sia l'idrogeno quello che non è molto normale che nelle tipo 1 non ci fosse perché nascondere l'idrogeno quando c'è molto difficile se non si vede vuol dire proprio che non c'è ma quale stella è priva di idrogeno quindi iniziavano i primi grattacapi ora vi mostro questa fotografia che è fatta qualche anno fa quello che vedete sulla destra è roberto barbon ma voglio iniziare dalla figura che vedete qui in alto a destra questo è leoni da rosino purtroppo scomparso nel 1997 ed è stato lui che ha iniziato la asiago supernova search avendo studiato assieme a zviki e avendo mandato roberto barbon negli stati uniti a imparare questa tecnica e poi l'ha fatta partire ad asiago ad asiago c'è stato scoperto una trentina di supernova negli anni 60 e negli anni 70 l'ultima nel 1988 mentre io stavo iniziando la mia tesi di laurea e ricordo questi due personaggi perché un po li vedo come i miei diciamo padri spirituali ma fra l'altro anche come dei protagonisti della ricerca della supernova il nostro qui sotto soltanto due inserti di due lavori fondamentali barbon chatti e rosino 1973 e 1979 tutti coloro che hanno studiato le supernove sanno a memoria questi i titoli di questi articoli perché in uno si introduce si introduce la differente velocità di declino delle supernove di tipo 1 che adesso chiamiamo 1a e nell'altra la differente forma di luce fra quelle che vengono chiamate plateau e quelle che vengono chiamate lineare quindi sono due lavori fondamentali fatti in italia basati sui dati ottenuti con i telescopi di asiago li volevo ricordare perché questo fa parte della storia per voi astrofili io credo questo faccia sia una cosa che siamo rende la ricerca più vicina questi sono due telescopi importanti quello di sinistra è il telescopio galileo dell'autopiano di asiago che probabilmente avete visto e quello sulla destra è lo schmidt ed è così che rosino e barbon e chatty avevano organizzato la search veniva fatta con le lastre fotografiche allo schmidt a grande campo poi venivano messe nel blinker e tanti fra voi lo sanno come si fa si allineano le lastre si si c'è uno specchietto che mostra prima una e poi l'altra se c'è un oggetto nuovo lo si vede lampeggiare per quello si vede blinker una volta che è scoperto si cercava di ottenere uno spettro con lo spettrografo attaccato al telescopio da un metro e venti di asiago così si facevano le ricerche questo è un passo più avanti questo è quello che noi chiamavamo l'asiago supernova group questa fotografia dei primi anni 90 ci sono turato capellaro benetti che sono i tre personaggi forse più attivi nel campo delle supernove e vedete un giovanissimo ma purtroppo non sono più così qui al centro siamo sulla forcella del telescopio un metro ottanta da centi di 180 centimetri di cima e glorioso telescopio con cui abbiamo osservato molte supernove ora mi direte beh come si trovano qui c'è Tenten che dice ma c'è una stella di troppo nell'orsa maggiore vedi infatti è proprio così no uno guarda al cielo così come ha fatto che plero galileo e i cinesi prima guardavano il cielo improvvisamente appare un oggetto che non si era mai visto prima e il cane dice beh vabbè insomma ci sono milioni e milioni di stelle una su una giù che differenza fa sì per la gran parte della gente non fa nessuna differenza per alcuni invece diciamo costituisce la passione della vita allora come si fa nell'epoca moderna qui in alto a sinistra avete un video che vi mostra il vst che si è il il vlt survey telescope al passero paranale costruito in italia ha una camera da 268 megapixel e copre quattro volte la superficie l'area apparente occupata dalla luna piena in cielo quindi quello che uno fa ottiene delle immagini a epoche diverse qui sotto vedete un esempio c'è una galassia e della stessa galassia ripresa qualche settimana dopo quelli fra voi che sono esperti hanno già trovato la supernova ma il modo automatico per farlo ci sono dei programmi che allineano le immagini e poi calcolano le differenze la differenza la vedete e qui nel terzo fotogramma verso il centro della diapositiva l'oggetto viene fuori tutto il resto è stato cancellato resta un qualche residuo nel nucleo la supernova e questa qui sulla sinistra fatto questo scoperta la supernova viene annunciata immediatamente e si procede con l'osservazione ovviamente se la supernova è molto lontana serve un telescopio molto grosso per ottenere lo spettro cioè per farne uno studio fisico in alto a destra qui in alto avete un'immagine che adesso facciamo partire e questo vedete è il vlt il very large telescope unità numero 2 un telescopio da 8 metri e 20 centimetri avete è enorme pesa 400 tonnellate a uno specchio monolitico da 8 metri e 20 centimetri ne avete già sentito parlare e con strumenti come shooter che è stato costruito anche con il contributo dell'osservatorio di trieste si ottiene quello che poi vedete qui in basso che è uno spettro cioè la scomposizione dell'intensità della luce nelle varie lunghezze d'onda in questo caso ad esempio guardando così un esperto vi dice subito questa è una supernova di tipo 2 adesso lo sapete anche voi perché ha l'idrogeno c'è questa bellissima riga con un profilo molto particolare che si chiama piccini che ci mostra che c'è dell'idrogeno in quell'oggetto per cui diciamo è una supernova di tipo 2 secondo la classificazione di minkowski che ancora valida cento anni dopo cosa fa una supernova beh quando esplode questa un'animazione questa è una supernova vera in centauri 6 la vedrete esplodere quando faccio partire l'animazione sul disco di polvere e questa che vedete è la curva di luce questa è una supernova di tipo 1a una curva di luce tipica quindi parte da molto debole diventa molto brillante raggiunge un massimo poi cala e poi declina lentamente su una coda che noi chiamiamo coda radioattiva nel giro di un anno l'oggetto scompare e questo che succede la supernova diventa più brillante e qui in basso a destra avete visto lo spettro ve lo possiamo anche far lo possiamo anche far ripartire vedete la supernova aumenta di luminosità e cambia anche la forma dello spettro all'inizio lo spettro è molto blu l'oggetto è molto caldo dopodiché inizia a raffreddarsi e diventa più rosso cioè prevale diciamo la parte blu si abbassa e prevale la parte rossa e mi chiederete beh quanti oggetti si scoprono ogni anno beh sono moltissimi lo vedete in questo grafico la prima scoperta del 1880 in epoca moderna quindi si scopriva una supernova ogni cinque dieci anni era una cosa rara perché tra l'altro non c'erano delle ricerche vere e proprie la cosa era spontanea e casuale però a partire dagli anni 50 soprattutto dopo che zwick inizia la supernova patrol come l'aveva chiamato la pattuglia delle supernove c'è una ricerca costante in cielo ci sono diversi osservatori fra cui anche quello di asiago che sistematicamente prendono delle immagini con delle certe cadenze e trovano degli oggetti nuovi vedete che c'è una specie di platore ma la cosa rimane costante dagli anni 50 fino alla metà degli anni 80 dopodiché c'è un'esplosione di studio di esplosioni e questo succede con l'evento che ha segnato la vita di non solo di quelli che si occupano di supernove come me ma anche di tutti gli astrofisici in generale perché è esplosa la famosissima supernova 1987 aveva segnata qui con una freccia questo momento in cui esplode dopodiché c'è un aumento vedete questa una scala logaritmica quindi si passa da decine di supernove a migliaia di supernove scoperte ogni anno il che vuol dire in media che si scoprono tre supernove al giorno al giorno d'oggi poi alla fine di questa presentazione arriveremo a dire quante se ne scopriranno nei prossimi dieci anni perché ovviamente la tecnologia sta avanzando ma questo vi mostra quale sia stato l'interesse 87 a e adesso ne parlerò diffusamente è stato un oggetto che ha segnato la vita degli astrofisici e anche dell'astrofisica in generale non possiamo parlare di supernove senza nominare questo oggetto è l'unica supernova che in questo diciamo nel secolo precedente è diventata visibile ad occhio nudo nell'emisfero sud era diventata di magnitudine 4 per chi lo sa diciamo questo vuol dire che si può vedere a occhio nudo ed è esplosa vicino alla nebulosa tarantola nella grande lupo di magellano questa immagine ovviamente vi sfido a trovarla ma insomma è molto difficile vi sfido a trovarla qui invece perché qui c'è questa è la grande nome magellano con un'immagine a grande campo ve la mostro io perché questa l'immagine prima dell'esplosione questa l'immagine dopo la supernova è qui ma voglio far vedere qualcosa di meglio in un'immagine presa con un telescopio a piccolo campo vedete fra la destra e la sinistra il 23 febbraio 1987 molti telefoni degli osservatori dell'emisfero australe hanno suonato incluso quello di la sia dove è iniziata subito una campagna e praticamente tutti i telescopi professionali della terra hanno studiato questo oggetto che è di grandissima importanza adesso abbiamo un breve sommario in questo filmato che a Grazie a tutti. Ecco, quello che abbiamo visto è un compositaggio di diverse immagini a largo campo, combinate poi con quelle finali ottenute dallo Space Telescope. Avete visto che l'oggetto, adesso lo vedremo meglio, l'oggetto, e siamo ormai a oltre 30 anni dall'esplosione, è una cosa molto complicata con questi anelli. Adesso andiamo un pochino nel dettaglio, perché da questo oggetto abbiamo imparato moltissimo, soprattutto per quello che riguarda l'evoluzione stellare. È una supernova da record sotto tutti i punti di vista. È la prima supernova in cui si sono visti i neutrini, ed è così che è nata l'astrofisica dei neutrini, al di fuori di quelli che potevamo osservare sulla Terra. È la prima evidenza diretta, perché avevamo solo fatto delle ipotesi, del che il nucleo di una stella può collassare e dare origine a un'esplosione. È anche il primo caso in cui ci aspettiamo, lo diciamo così, non l'abbiamo ancora trovato, ma ci aspettiamo di vedere o una stella di neutroni, o addirittura la prova che si è formato un buco nero. È la prima supernova visibile a occhio nudo negli ultimi 350 anni. Dopo quella che ha visto Galileo, non so se ne sono viste altre, questa è l'unica. È stata osservata nei raggi X e nei raggi gamma già dalle fasi iniziali, cosa che non era successa. Cosa importantissima, per la prima volta si è saputo, andando a guardare nelle immagini di archivio, qual è la stella che è esplosa. Cosa che per nessun'altra supernova si era potuto fare, perché sono tutte troppo distanti. Non solo, ma a distanza di tanti anni, osservando il sito dove la stella c'era prima, abbiamo capito che la stella non c'è più, quindi è un'evidenza diretta che quella stella è veramente esplosa. È stata studiata per più di trent'anni da tutti i telescopi della Terra, quindi è molto probabilmente l'oggetto singolo del cielo più studiato, a parte il Sole. È l'unica supernova che sarà visibile per l'intera vita di un uomo. Io l'ho vista non quando era brillante, erano i primi anni all'università, ma l'ho osservata qua nel 1997, quindi siamo dieci anni dopo la sua esplosione, e i miei colleghi continuano a osservarla adesso e continueremo a osservarla per molti, molti anni. Allora, questo è il suo progenitore, lo vedete in questa figura, era una stella che ha il nome di Sandula 69202, un nome molto poco poetico, aveva la luminosità di 100.000 soli, quindi è una stella molto brillante, una temperatura di 15.000 Kelvin, quindi è una stella molto calda, un raggio 40 volte quello del Sole, sei masse solari, la massa del nucleo, composto da elio e metalli, sapete che in astronomia si chiamano metalli tutti gli elementi che non sono elio o idrogeno, è molto fuorviante. Aveva una massa di circa 20 masse solari sulla sequenza principale, quindi prima di evolvere. Ma la grande sorpresa, io ricordo che molti dei teorici si grattavano la testa, perché ci avevano insegnato che le supernove di tipo 2 erano delle giganti rosse che esplodevano alla fine della loro vita. La prima supernova di tipo 2, perché 87A era una supernova di tipo 2, mostrava l'idrogeno, di cui se hai visto il progenitore, beh, ci ha rivelato che il progenitore era una gigante blu e non una gigante rossa come si credeva, e nessuno se lo aspettava. In realtà poi si è capito, questo ha servito ad affinare le teorie dell'evoluzione stellare, alcune giganti rosse possono ritornare blu poco prima dell'esplosione, di fatto. Ora, questa è un'immagine presa col VLT, in cui si vedono, ci sono queste due stelline a fianco che non c'entrano niente, e vedete che la supernova 87A non è più un oggetto, ha un punto nel centro e un anello in giro. Questo è quello che si vede con un telescopio d'autometri, con un SING, per gli astrofili, un SING da 0,7 secondi d'arco, quindi sotto sub-arc second, come si dice, quindi un SING eccezionale, ma non è sufficiente per risolvere dei dettagli. Ci dice che qualcosa, con l'oggetto questa osservazione è stata fatta vent'anni dopo l'esplosione, il materiale si è espanso e in un'immagine invece presa col telescopio spaziale le cose compaiono, essere molto molto più complicate. È la prima supernova che viene risolta spazialmente, cioè si vedono i dettagli dell'esplosione, perché tutte le altre erano troppo lontane. Vi ricordo che la nuova di Magellano è a 150.000 anni luce, insomma, quindi insomma è piuttosto vicina sulla porta di casa. Tutte le altre supernove studiate erano quella di Andromeda a 2 milioni di anni luce, ma tutte le altre erano ben oltre. Si capisce che c'è del materiale circunstellare, cioè la stella non è esplosa nel vuoto, ma è esplosa all'interno di qualcos'altro. E questo qualcos'altro dà origine a quegli anelli che vedete. Non solo, l'esplosione stessa non è una sfera, non è una palla di fuoco, ma è una cosa asimmetrica. Nella prossima animazione, e questa non è un'animazione fatta con i dati ottenuti con il Large Millimeter Array con ALMA, vedete la struttura dell'anello, quella parte verdogno all'esterno, ma anche la parte interna in cui colori diversi sono elementi chimici diversi, e vedete che è tutt'altro che una sfera. Ha una specie di allungazione che non è neanche perpendicolare diciamo al piano equatoriale. E quell'anello lì, questa che vedete, non è un'animazione finta, ha una sequenza di immagini presa circa uno ogni anno col telescopio spaziale, e vedete come evolve. Cosa è successo? C'è un anello di materiale che è stato espulso dalla stella priva di esplodere, che a un certo punto viene raggiunto dal materiale espulso dalla supernova durante l'esplosione e diventa più brillante. E sulla destra invece aveste un modello che mostra cosa sta succedendo, si stanno formando, c'è uno shock che entra in questo materiale preesistente, e come succede in tutte le onde, c'è una riflessione, quindi c'è uno shock che viene chiamato reverse shock wave, quindi l'onda d'urto invertita che va verso l'interno, e questo crea queste turbolenze e questi pallini, questi blob luminescenti che vedete in questo anello circostellare. Ora, come si spiega questa cosa? Beh, questo è un modello fatto da due giapponesi pubblicato su Science in cui si dimostra che la struttura si può ricostruire se l'oggetto ha perso del materiale in due direzioni come una clessidra, c'era un campo magnetico quindi il materiale si è mosso perpendicolarmente al campo magnetico e si è formato un anello equatoriale e poi il vento che viene perso, cosiddetto, il materiale perso dalla gigante rossa prima di diventare gigante blu viene a un certo punto raggiunto dal vento perso dall'oggetto quando era una gigante blu che va più veloce e crea questi shock e spinge questi addensamenti per cui si ha un'immagine un'immagine si formano tre anelli uno sull'equatore e lo vediamo in questa diapositiva qui ecco qua si formano questi anelli e qui è stata anche disegnata la forma della clessidra e sul lato destro vi mostro etacarine che è un oggetto vero in cui vedete che questa stella che non è ancora esplosa ma un giorno esploderà ha perso del materiale in forma bilobata e potete immaginare che cosa succederà quando questo esploderà sotto forma di supernova perché questo un giorno avverrà ecco prima di vedere 87A non avevamo la più pallida idea di quanto complessa potesse essere la regione circunstellare che circonda queste stelle che poi esplodono questo è un altro personaggio che voglio presentarvi questo è Lo Volcher che è stato direttore della mia organizzazione purtroppo è mancato nel 2019 e ha detto questa frase 1987A sarà la prima supernova che potremo osservare per sempre perché è così vicina e continuerà a rimanere brillante in qualche forma nelle prossime centinaia di anni quindi nella transizione tra la supernova e il resto di supernova noi non vedremo o ci continueremo a vedere questo film nel formarsi di un supernova remnant vero e proprio come quello della crabba ci vorrà solo un po' di tempo ora voglio farvi un breve accenno su un fenomeno che è poco conosciuto che è quello degli echi di luce e ve lo menziono in collegamento con 87A perché 87A ha mostrato un eco di luce bellissimo allora in questo schema che vedete sulla sinistra è un po' complicato insomma cerchiamo di capirlo in questo schema che vedete sulla sinistra dovete immaginare questa cosa la supernova esplode e dovete immaginare che la luce si espande come una sfera viaggia la velocità della luce quindi avete una sfera che si espande alla velocità della luce la supernova è come un flash quindi dovete immaginare come se dalla sua superficie venisse emesso un impulso di luce quindi che ha una certa durata e quindi questo anello ha un certo spessore e lo spessore è la durata dell'esplosione in sostanza vabbè fin qui non succede niente se non ci fosse nessun materiale vicino all'oggetto vedreste solo la luce che arriva direttamente dall'oggetto al vostro occhio però immaginate che a fianco alla supernova quindi fuori dalla linea di vista ci sia del materiale che riflette la luce la polvere interstellare se questo succede cosa succede quando la luce raggiunge questo materiale viene diffusa in tutte le direzioni ma anche nella direzione del vostro occhio per cui ci sarà della luce che vi arriva direttamente dalla supernova e dalla luce che viaggia in un'altra direzione a un certo punto in contra della polvere viene riflessa e vi arriva al vostro occhio con un certo ritardo ora se vi fate un po' con Ticini succede che ad esempio in questo caso qui a destra vedete ci sono due tempi la linea tratteggiata e la linea tratteggiata più esterna semplicemente segna il tempo che è passato fra due eventi scusate il tempo che è passato fra un istante e l'istante successivo in cui è stata fatta questa ipotetica fotografia beh vedete che la luce la distanza CB è la distanza che ha percorso la luce la distanza AB è la distanza in cielo apparente che avete visto spostarsi questo eco di luce siccome A è B da AB la distanza è maggiore che da C a B beh sembra apparentemente che si sia qualcosa mosso alla velocità superiore a quella della luce quindi avete un movimento apparentemente super luminale in realtà non si è mosso assolutamente niente è un effetto dell'eco di luce ora se non l'avete capito ve lo rispiego quando mi fate una domanda oppure ci vediamo davanti a un bel bicchiere di vino questo diventa più semplice però l'effetto che vi voglio mostrare è che questa cosa si osserva in cielo questa è un'immagine presa nel 2001 in cui si vedono questi anelli poi un'immagine infatti l'anno dopo e questo è quello che succede si vedono questi anelli che sembrano muoversi a velocità più alta di quella della luce in realtà non è altro che il riflesso in ritardo prodotto dall'intersezione di questo paraboloide che è il luogo di ritardo costante e che interseca dei fogli come delle nubi a distanze diverse che danno origine a questi cerchi questi sono gli ecchi di luce che sembrano così un fenomeno assolutamente estetico in realtà hanno una certa importanza perché funzionano come un'ecografia ci permettono di vedere cose che altrimenti non vedremmo è come uno scanner il pulso di luce è un po' come l'ecografia nel corpo umano viene mandato un suono misurato al riflesso e costruito a un'immagine così noi possiamo ricostruire delle immagini tridimensionali del mezzo interstellare benissimo dopo questa introduzione generale su supernova parliamo un po' di fisica perché adesso abbiamo solo parlato di cose più o meno estetiche diciamo interessanti ma non abbiamo detto che cosa sta succedendo allora una supernova è un'esplosione stellare è la distruzione parziale o totale molto spesso della stella progenitrice cioè la stella viene come si dice in gergo bruciata da una fiamma che può essere una fiamma termonucleare l'energia liberata totale è 10 a 51 air che sembra essere un po' una costante della natura e questo include sia l'energia cinetica dovete immaginare che apriete una stella come 87a 20 volte la massa del sole la fate a pezzi completamente sono 20 volte la massa del sole e accelerate questo materiale a decine di migliaia di chilometri al secondo decine di migliaia di chilometri al secondo quindi una frazione rilevante della velocità della luce in alcuni oggetti addirittura fino a 50 60 70 mila chilometri al secondo quindi insomma un terzo della velocità della luce c'è questa energia cinetica c'è la radiazione che è quella che ci permette di vederle ci sono anche i neutrini per fare un confronto il sole emette la stessa quantità di energia di una supernova in tutta la sua vita cioè in 15 miliardi di anni cioè al sole ci vogliono 15 miliardi di anni per emettere l'energia che una supernova emette in qualche millisecondo questo vi dà l'idea della grandezza la luminosità ultravioletta ottica intrarosso sono 10 alla 43 erga al secondo il conto è presto fatto è l'equivalente di 10 miliardi di soli cioè per fare la quantità di radiazione che emette una tipica supernova ci vogliono 10 miliardi di soli se pensate che una galassia ha 100 miliardi di stelle beh una supernova fa il 10% della luce di un'intera galassia per questo si dice che una supernova emette una quantità di radiazione che è confrontabile a quella di un'intera galassia è un'esplosione immane qui ho detto un esempio sul fondo ma poi ci torniamo quindi è vero è una grande palla di fuoco enorme è una grande palla di fuoco allora tanto per riportare le cose sulle scale è 3 per 10 alla 24 volte il consumo energetico mondiale sono sicuro che questa cosa non vi dice niente però il conto è proprio così me lo sono fatto quindi 3 per 10 alla 24 scritto così i numeri tanto per averci un 3 con 24 0 e se non l'avete capito ve lo scrivo così anche 3 milioni di miliardi di miliardi di volte il consumo energetico mondiale di un anno quindi è una quantità di energia enorme ora questo è un oggetto molto studiato questa è la galassia M100 vedete questa è un'immagine presa col VLT prima dell'esplosione la galassia è una galassia molto studiata e questa subito dopo la vedete questa è la supernova insomma in grandimento che lo vedete cosa vuol dire che diventa confrontabile con la luminosità dell'intera galassia questa era una stella tra l'altro questa era una nanna bianca una stella piccolissima di una luminosità bassissima che improvvisamente diventa visibile a 50 milioni di anni luce di distanza e ha raggiunto la magnitudine 12 quindi non si vedeva occhio nudo però era un oggetto che si poteva anche osservare come un telescopio da 20 cm diciamo quindi a 50 milioni di anni luce ed è una stella non una galassia gli astrofisici non si accontentano di guardarla fanno uno spettro questo è uno spettro tipico vedete la dispersione come si dice la luce viene dispersa nelle sue componenti in questa direzione e vedete che non è un continuo come quello di una lampadina incandescenza ha delle emissioni ma anche degli assorbimenti delle emissioni degli assorbimenti lo si vede meglio qui abbiamo aumentato il contrasto qui vedete che c'è il continuo cioè l'emissione che farebbe un corpo caldo semplicemente e tipicamente se uno va a riprodurre la curva del continuo vengono fuori temperature dell'ore dei 10.000 gradi ma ci sono sopra il continuo ci sono delle emissioni come questa che è l'Hα cioè la riga principale dell'idrogeno ma anche accompagnate da degli assorbimenti quando ho fatto un tracciato cioè tirate una riga vedete l'intensità lungo la direzione dell'espressione questo è quello che vedete e qui si deducono diverse cose l'occhio esperto vede questo è l'idrogeno quest'altro un'altra riga dell'idrogeno e poi ci sono svariati metalli e con l'andare del tempo viene sul ferro il cobalto il materiale radioattivo una cosa importante è che la larghezza delle righe vi dà un'idea anzi una misura diretta della velocità con cui si espande il materiale più la riga è larga e più veloce è il materiale è il puro e semplice effetto Doppler che fa avete la supernova che esplode cioè del materiale che si allontana da voi del materiale che si avvicina quindi quello che si allontana emette dei fotoni che sono più arrossati quelli che si avvicinano ai fotoni che sono più imbluiti e questo fa allargare la riga e da lì si misurano queste velocità che raggiungono io ho detto decine di migliaia di chilometri al seconda e uno un mezzo mv al quadrato sta poco a calcolare si rende già cinetica e vengono fuori questi grandi numeri molto bene possiamo andare avanti con un po' di fisica allora ve l'ho detto all'inizio le 1a come le chiamiamo al giorno d'oggi non hanno l'idrogeno e questo è un bel problema da risolvere si vedono in tutti i tipi di morfo in tutti i tipi morfologici di galassie quindi nelle galassie aspirali ma anche nelle galassie ellittiche che sono delle galassie molto vecchie quindi vengono da una popolazione vecchia fra l'altro non esplodono mai fra un braccio e l'altro esplodono cioè esplodono un po' dappertutto scusate non solo sui bracci di spirale il che vuol dire siccome i bracci di spirale sono dei traccianti di popolazione giovane vuol dire che sono degli oggetti vecchi e di solito esplodono in un ambiente circunstellare pulito cioè tutto pulito in giro quindi il progenitore deve essere una stella molto vecchia dall'altro lato abbiamo le supernove di tipo secondo poi fra queste sono mischiate le 1bc senza andare tanto nel dettaglio si vedono solo nei bracci di spirale cioè nelle regioni di formazione stellare dove ci sono oggetti giovani e non solo sono accompagnate spesso da emissione radio e questo testimonia il fatto che quando esplodono come 87A esplodono dentro del materiale come se fossero coperte da dei bozzoli ed è il materiale che l'oggetto prima di esplodere ha perso sotto forma di vento stellare cosa che succede tipicamente nelle stelle molto massicce e da questo si è dedotto l'avevano già capito negli anni 70 che vengono sono stelle che vengono da una popolazione giovane e questi sono i due fatti importanti un'altra cosa riguarda mi ero promesso che non ve l'avrei detto ma ve lo dico ve lo dico lo stesso perché questa frase l'avete sentita fino alla noia siamo figli delle stelle perché perché l'esplosione del Big Bang ha prodotto solo gli elementi primordiali in sostanza ha prodotto l'idrogeno l'elio è un pochino di litio e traccia di qualcosa altro le stelle quelle normali come il sole producono degli elementi di massa intermedia boro carbonio neon ossigeno queste cose qui tutto il resto lo fanno le supernove perché il sole fa delle cose ma restano dentro il sole poi quello diventerà una gigante rossa si spegnerà con una nana bianca ma tutto il materiale resterà confinato all'interno della stella e se il Big Bang ha fatto solo l'idrogeno e l'elio il ferro che abbiamo nel sangue il calcio che abbiamo nelle ossa da dove vengono è ovvio che vengono dalle supernove le supernove e l'ho scritto nell'introduzione sono uno dei pochi casi in cui si può vedere l'interno di una stella sì l'abbiamo fatta a pezzi come sezionare un cadavere ma insomma se non altro riusciamo a vedere quello che c'è all'interno e poi ci sono i lantanidi e gli attivini che abbiamo capito recentemente vengono dalle chilo 9 ma tornerò un'altra volta a parlarvi di quelle allora andiamo un po' nella fisica delle cose abbiamo un grosso problema da risolvere perché ho detto che le 1a sono degli oggetti che vengono da una popolazione vecchia senza idrogeno ora uno deve grattarsi la testa parecchio prima di capire come far esplodere un oggetto vecchio che quindi è un oggetto molto piccolo che è privo di idrogeno e l'idrogeno è l'elemento più abbondante dell'universo allora già negli anni 70 una spiegazione l'abbiamo trovata è detto beh gli oggetti che più si avvicinano cioè un oggetto vecchio di piccola massa e senza idrogeno beh non ce ne sono molti nell'universo sono le nane bianche solo che una nana bianca è un oggetto estremamente stabile come si fa a farlo esplodere? beh lo dovete mettere assieme a un compagno un compagno che gli dia del materiale gli ceda del materiale perché la nana bianca è vero che è stabile ma è fatta di materiale che in fisica viene detto degenere cioè è in una situazione estrema che sta tranquillo lì dov'è finché non raggiunge una certa densità critica che è legata alla massa di Chandrasekhar che è circa una volta e mezza la massa del sole se si raggiunge questo limite critico ah beh succede un disastro perché la stella non si regge più le densità e le temperature diventano molto grandi e c'è quella che viene chiamata diciamo un runaway termonucleare si innescono le fusioni del carbonio e dell'ossigeno e la stella si trasforma quasi per la metà in cobalto che poi decade in nickel e poi decade in ferro e salta per aria con una grandissima esplosione i conti che Chandrasekhar aveva fatto sono già in grado di produrre quei 10 da 51 erg di cui vi parlavo all'inizio quindi è in grado di farlo ma qualcuno deve darle questo materiale perché l'astrofisica ci mostra che non è possibile produrre una nana bianca più grande della massa di Chandrasekhar le nane bianche sono tutte piccole più piccole di una massa del sole tipicamente o 1,1 o 1,2 la massa di Chandrasekhar è quasi 1,5 quindi come si fa? ah beh è semplice ci mettiamo un compagno come vedete in questa figura in questo cartone un compagno che le gira attorno escono a una nana bianca gravitazionalmente molto forte succhia via il materiale da una compagna che spesso si pensa ad essere una gigante rossa perché diciamo è molto gonfiata e non riesce a trattenere il gas che è alla periferia e la nana bianca succhia questo gas lo accresce un po' alla volta in un disco di accrescimento finché raggiunge il limite critico e esplode questa è l'idea le altre come 87A questa cosa sono piene di idrogeno ovviamente non possono venire dalle nane bianche devono venire dalle stelle massicce e l'evoluzione stellare ci mostra che stelle con masse superiori alle 8 volte la massa del sole subiscono quello che viene chiamato collasso del core si forma un'onda d'urto sulla superficie della stella di neutroni o del buco nero che si forma rimbalza verso l'esterno questo fa saltare per aria gli strati esterni che partono a grande velocità quindi nel caso dell'uno avete un'esplosione termonucleare quindi si accende una specie di fiammifero poi vedremo una simulazione e viene bruciato da un punto di vista nucleare non chimico viene bruciato con una fiamma nucleare incenerisce la stella e la trasforma in ferro nel caso del core collapse invece fa rivivere le fusioni nucleari che stanno avvenendo diciamo per conto proprio e distrugge la stella ma è molto probabile che ne lasci un nucleo centrale un buco nero o una stella di neutroni mentre nel caso delle supernova termonucleari non dovrebbe restare niente allora velocità ve l'ho detto fra i 10.000 e i 50.000 chilometri al secondo raggi gamma e raggi X vengono prodotti anche dei remnant quindi dei residui resta qualcosa dell'esplosione si producono dei neutrini si producono delle particelle molto energetiche perché vengono accelerate a grandi velocità e come vi ho detto le supernove sono le responsabili dell'arricchimento chimico della galassia altrimenti il materiale sintetizzato all'interno delle stelle resterebbe là e non sarebbe mai potuto finire a formare i pianeti ad esempio quindi il sole è ovvio nasce in una regione in cui c'è già stata l'esplosione di una o più supernove antecedenti alla formazione del sole perché il ferro l'uranio anche gli elementi pesanti che sono sulla terra non sono stati prodotti dal sole erano lì prima che il sole si formasse rappresentano come vi ho detto l'unica opportunità di vedere l'interno di una stella perché del sole si vede solo la superficie e anche quella si fa anche fatica cedono energia cinetica al mezzo interstellare quindi liberano una grande quantità di radiazione ma anche di energia cinetica che con queste onde d'urto possono indurre la formazione stellare di gas che altrimenti se ne starebbe quieto lì ad aspettare possono essere usati e chiuderò la conferenza con questo come indicatori di distanza perché soprattutto delle 1a conosciamo la luminosità intrinseca e quindi possiamo usarla per misurare la distanza ora vediamo un po' cosa succede nel caso del core questo è un semplice disegno la stella inizia a contrarsi perché al centro è finito il combustibile contrae ricade si forma un oggetto molto denso al centro e l'onda si forma un'onda ad urto ogni volta che voi cozzate contro qualcosa rimbalzate verso l'indietro e questa onda ad urto poi fa saltare per aria la stella e questo è il core collapse è quello che ha prodotto 87 anni questa è una simulazione molto più complicata in cui si cerca di diciamo la stella inizialmente diventa instabile ci sono delle oscillazioni vedete quella cosa blu si è formato il nocciolo centrale queste cose avvengono tutte nel giro di pochi millisecondi e non nel tempo che la vediamo nel filmato in pochi millisecondi succede tutto quanto adesso vi fa vedere il nucleo centrale che si è formato al core di neutroni e il materiale si sta formando questa onda ad urto che a un certo punto poi non riuscirà diventerà così instabile e diciamo farà saltare per aria l'intera stella queste sono simulazioni che girano su super computer per mesi includono i neutrini alla radiazione e diciamo sono delle cose estremamente complesse che vengono fatte qui al Max Planck Institute per l'astrofisica e la cosa è abbastanza nuova perché fino a pochi anni fa vi raccontavano quella storiella che abbiamo appena raccontato ma non c'era nessun modello tutti si restavano bloccati lì nessuno poi rimbalzava ed esplodeva e dava origine a queste cose poi vedete che ci sono dei fenomeni di mixing quindi il materiale durante l'esplosione si miscuglia e che rende le cose molto complicate per poter trattare poi le fusioni nucleari per capire quali elementi chimici poi vengono prodotti ora questo sembrava semplice diciamo il concetto era semplice la fisica era molto difficile perché bisognava includere i neutrini adesso ci sono riusciti per le 1a invece il concetto era difficile nel senso che arrivate la lana bianca e che cosa ci mettiamo a fianco e beh sì una gigante rossa però il problema di una gigante rossa è che si sono contati quanti possibili candidati ci sono nella nostra galassia e nelle galassie esterne e pare che non ce ne siano abbastanza per spiegare tutte le 1a che vediamo quindi la gente si è inventata un altro un altro canale per formare beh avete due nane bianche che circolano e questo vi toglie anche l'idrogeno di mezzo perché con la gigante rossa un po' di idrogeno quando la stella esplodeva si portava via due nane bianche che circolano una attorno all'altra e siccome perdono un po' di energia perché emettono onde gravitazionali le loro orbite diventano sempre più vicine finché a un certo punto si emergono superano la massa di Chandrasekhar perché se le due stelle hanno una massa di 0,8 masse solari ciascuna la somma fa 1,6 che è più grande della massa di Chandrasekhar e la stella esplode adesso vi mostro una simulazione fatta sempre qui al Max Plan di che cosa si pensa succede quando queste due nane bianche negli ultimi millisecondi coalescono cioè si emergono quello che vedrete è la formazione di un'onda d'urto che circonda una delle due stelle e quando raggiunge il lato opposto della sfera si forma un'onda d'urto che va verso l'interno della stella iniziano le reazioni interno nucleari e la stella esplode diamo un'occhiata quindi vedete adesso è molto rallentato questi tre grafici mostrano uno la densità a sinistra quello del centro la temperatura e quello di destra invece il peso atomico medio cioè gli tipici elementi ecco vedete in quella centrale che lo shock sta circondando la stella penetra verso l'interno e c'è questa esplosione questo avviene nel giro di millisecondi il tempo che vedete in alto a sinistra sono millisecondi dal momento lo faccio vedere un'altra volta perché è abbastanza questi sono in pochi secondi vediamo il risultato di mesi di calcolo naturalmente e di anni di lavoro ovviamente per codificare la fisica che serve quindi le due stelle girano si sono già avvicinate e a un certo punto il materiale avvolge la stella la temperatura vedete la parte centrale aumenta passa diciamo da mezzo milione di gradi poi sale fino a qualche milione di gradi e si innescano si innesca la fusione nucleare del carbone e dell'ossigeno e la stella esplode e queste sono le unione ora ci sono anche delle simulazioni che mostrano che cosa lo vedete qui cosa succede nell'interno della stella quando iniziano queste si formano quelli che vengono chiamati dei funghi sono delle strutture frattali che permettono aumentano la superficie della fiamma termonucleare e sono quelle che riescono a far saltare per aria a far esplodere la stella l'energia supera l'energia di legame gravitazionale la stella non riesce più a stare insieme ed esplode quando esplode all'interno di altro materiale come questa è una simulazione una stella in cui perde del materiale con un compagno ovviamente si possono formare anche delle strutture che per anni ho cercato di osservare con il BLT e ci sono riuscito in un solo caso quindi pare che effettivamente il canale delle stelle cioè dei sistemi formati da due lane bianche sia il canale più promettente mentre quello con la gigante rossa che è quello che darebbe origine a questa specie di clessidra sia invece un canale che se esiste non è così frequente ci stiamo avvicinando verso la fine e non potevo parlare di supernove senza parlare della distanza della scala delle distanze dell'impatto delle supernove nella cosmologia allora i due personaggi che vedete qui sono Brian Schmidt sulla sinistra e Sol Permuter sulla destra che dirigevano i due gruppi il High Z Supernova Surge e il Supernova Cosmology Project perché ve li mostro? beh perché hanno preso il premio Nobel nel 2011 allora nel filmato che avete visto in alto le cose sono molto semplici supponete di avere una lampadina da 1000 watt di averne un'altra da 1000 watt uguale questa la tenete qui davanti ai vostri occhi l'altra l'ha portata a una certa distanza è intuitivo che quella che è più lontana vi apparirà sempre più debole se raddoppiate la distanza la luminosità va giù di un quarto se la portate a 10 volte va giù di 100 perché va come il raggio al quadrato la luce si diluisce ora sapendo che quella lampadina è di 1000 watt quella che è lontana così come non è quella che avete vicina dal confronto di quello che misurate potete dedurre direttamente la distanza e se il vostro universo è un universo molto semplice quindi un universo piatto è vuoto c'è una relazione lineare fra in scala logaritmica fra la luminosità e la distanza e questa è la legge di Hubble in poche parole ora voi quella lampadina non ce l'avete però avete le supernova di tipo 1a che non vi ho ancora detto ma che sono molto simili une all'altra e il motivo per cui sono simili è che esplodono tutte più o meno quando si raggiunge la famosissima ormai per voi massa di Chandrasekhar che è una specie di costante fisica ogni volta che è arrivata a quel punto la stella esplode più o meno sempre nelle stesse condizioni quindi produce più o meno sempre la stessa luminosità quindi già a partire dagli anni 50 e 60 si è iniziato a ragionare in questi termini se io prendo una 1a locale la calibro bene la studio bene assumo che tutte le altre siano uguali e gli spettri me lo dicono quando le vedo più distanti siccome so qual è la loro luminosità so che hanno 1000 watt e ne misuro 10 vabbè la distanza è quella le osservo sempre più lontane misuro loro resist e mi costruisco un diagramma di Hubble se l'universo è piatto beh mi viene fuori una linea retta se non è una linea retta beh allora inizio ad avere dei problemi il mio modello cosmologico piatto di un universo vuoto non è valido ed è quello che vedete in questo grafico questi sono i risultati allora se fosse stato un universo piatto avrebbe seguito esattamente questa linea retta del grafico qui sotto questa è la differenza fra una legge di Hubble pura e semplice e quello che i dati mostrano e vedete che entrambi i progetti che erano andavano in parallelo erano fatti da due team da due squadre che non si parlavano fra di loro se non per fare separare pugni perché erano in competizione ma entrambi trovano un eccesso cioè le supernove erano più deboli di quello che dovevano se fossero state di 1000 watt allora i problemi erano due o le supernove lontane quindi più vecchie sono diverse da quelle di adesso oppure l'universo non è così come crediamo allora esclusa la prima cosa per un certo numero di ragioni sono giunti a questa conclusione che li ha portati al premio Nobel li vedete qui sulla destra Adam Rees Brian Schmidt e Solpermutter hanno preso il Nobel hanno diviso il premio Nobel in tre per la scoperta dell'universo accelerato adesso diciamo perché sono finiti sulla copertina di Science ma soprattutto hanno preso il premio Nobel allora in questo grafico si riassume quello che vi ho già detto in un universo piatto la distanza e la luminosità starebbero su questa retta qui in un universo chiuso ora questo è il futuro e questo è il passato in un universo chiuso la curva è molto molto diciamo un universo parte piccolo diventa grande poi torna piccolo in un universo aperto invece parte piccolo diventa grande e al limite si ferma diciamo resta là le supernove che hanno osservato hanno ottenuto due risultati che l'universo è aperto si espanderà all'infinito ma la grossa scoperta è stata che nel passato non si è espanso in maniera lineare come prevede la legge di Hubble ma c'è stata un'accelerazione questi punti che vedete qui sulla destra e questa curva che ha questa gobba vuol dire che l'universo si è espanso più di quanto doveva poi ha rallentato chi è che può fare una cosa di questo tipo serve una forza che non conosciamo un'energia che non conosciamo che è l'energia del vuoto che tutti conoscete come dark energy e energia oscura ora va detto chiaramente che non sappiamo che cosa sia l'energia oscura non sappiamo neanche cosa sia la materia oscura ma l'energia oscura ancora meno è l'energia che ha il vuoto o questa è una possibilità oppure l'altra possibilità è che esista questa costante cosmologica che Einstein aveva introdotto nelle sue equazioni per poter spiegare perché le sue equazioni diciamo l'universo era fermo e invece era così quando esce la legge di Hubble lui è costretto a metterci dentro la costante e dice questo è il più grande errore della mia vita in realtà i dati sembrano mostrare che qualunque cosa sia questa costante cosmologica la sua intuizione diciamo era valida e questo è stato un grandissimo risultato che non solo ha portato il primo Nobel ma che fa grattare la testa a un sacco di gente perché è una cosa che dobbiamo spiegare un'altra conclusione è che un po' triste se vogliamo è che solo il 4% dell'universo è fatto della stessa sostanza di cui siamo fatti noi il 4% tutto il resto è fatto della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni nel senso che è fatto da energia oscura e da materia oscura di cui non sappiamo assolutamente niente quindi ve lo dico con estrema franchezza questa scoperta ci ha fatto capire che in realtà non sappiamo proprio niente dobbiamo ancora capire la materia oscura ad esempio di che cosa è fatta non lo sappiamo non esistono ancora delle particelle che possano spiegarlo ci sono dei candidati e tantomeno sappiamo cos'è questa energia oscura voglio mostrarvi anche questa fotografia che ha fatto mia moglie nel 1995 questa è la scuola di studi avanzati di fisica termonucleare nel 1995 siamo in Spagna e ci sono all'epoca loro non lo sapevano ma Adam Ries lo vedete qui era un ragazzo io e lui eravamo studenti all'epoca Brian Schmidt anche lui è della mia età e Solpermutter sono tre premi Nobel nella fotografia ancora non lo sapevano avete una giovanissima versione di me ora chiudo con qualcosa che probabilmente non avete alcuni di voi non hanno mai sentito nominare e sono quelle che chiamiamole ipernove e il mese di aprile del 1998 io mi trovavo alla SIA lavoravo come astronomo di supporto al telescopio da 3 metri e 60 il VLT ancora non c'era Saro Paranà lo stavano ancora costruendo arriva un telegramma automatico che il satellite Beppo Sachs è un satellite italiano e il nome Beppo viene da Giuseppo Chialini che era un pioniere delle missioni spaziali in Italia è stato chiamato così in suo onore che aveva un telescopio a raggi X al suo interno il cui scopo era quello di studiare i lampi di raggi gamma di cui allora si conosceva ben poco e c'è stato un burst diciamo un lampo di raggi gamma della durata di qualche decina di secondi quindi classificato come long burst ci sono due classi di lampi gamma quelli corti che durano pochi secondi e quelli lunghi che durano decine di secondi questi erano di quelli lunghi la procedura era che questo satellite li osserva e vi dà un raggio di errore nel cielo e dice ma l'oggetto deve essere più o meno in questa regione quindi lo scopo dell'astronomo ottico dopo che l'astronomo a raggi si ha detto che c'è un oggetto è quello di cercare la controparte ottica quindi gli astronomi X mandano alla SIA le coordinate con la error box e dicono osservate tutte le galassie che ci sono in quella regione i miei colleghi puntano l'NTT questa è l'immagine di Beppo Sachs c'è un lampo di raggi gamma di cui la gran parte di ciò che vedete in un'immagine è rumore non si può dire granché quindi dicono astronomi ottici puntate i vostri telescopi quello che vedete lì nel centro della fotografia è l'NTT che sta per New Technology Telescope un telescopio da 3 metri e mezzo costruito col contributo dell'Italia quando l'Italia è entrato a far parte della mia organizzazione ed era un telescopio estremamente innovativo perché era il primo telescopio al mondo ad avere lo specchio attivo cioè che si deformava non in tempo reale ma sulla scala dei minuti per adattare alla miglior forma man mano che il telescopio punta in direzioni diverse per correggere per le flessioni dello specchio quindi telescopio eccezionale che dava sempre immagini 06, 07, 05 secondi d'arco e che era fatto adesso lo vedete in modo un po' strano lo vedete qui il telescopio e la cupola sono solidali e quando si era nella sala di controllo all'interno e si mandava il preset improvvisamente tutto girava cioè era dentro il telescopio quindi il telescopio girava assieme alla cupola lo vedete qui all'interno con un telescopio molto compatto con una cupola molto molto contenuta ed era questo che permetteva di raggiungere una qualità di immagini estrema grande sorpresa quella nota io mi ricordo non me la dimenticherò mai si va al telescopio la prima galassia che viene osservata una galassia che si chiama ESO 184 G82 sconosciuta di cui non si sapeva neanche il redshift in quel momento e beh c'era un oggetto che non si era mai visto prima un oggetto molto brillante avete visto questa animazione fatta con delle immagini reali prese con il 360 ed era a pochi arcominuti dal centro della error box di quel cerchio che gli astronomi X ci avevano dato ma le vere sorprese sono arrivate quando si è fatto il primo spettro subito dopo ricordo che si prese l'iniziativa di fare uno spettro senza aver avuto l'ordine di farlo e per fortuna lo si fece perché lo spettro è quello che vedete in alto e se è la supernova a quel punto l'abbiamo classificata come supernova e le abbiamo dato il nome di 1998 BW questa era un'altra supernova di un tipo simile ma come vedete non c'era ci assomigliavano vagamente come vi ho detto prima la larghezza delle righe vi dà un'idea delle velocità di espansione ebbè uno va lì con il righello e misura fuori 60.000 60.000 km al secondo una cosa straordinaria la cosa straordinaria è che era un oggetto mai visto prima associato molto probabilmente a un lampo di raggi gamma questa è stata subito chiamata la stella di Rosetta si è capito sospettato fortemente poi ci sono stati altri casi negli anni successivi che i lampi di raggi gamma lunghi fossero associati proprio a questo tipo di supernova che sono state chiamate ipernove perché le esplosioni erano 10 volte più brillanti delle supernove che si conoscevano fino a quel momento ed è così che si è risolto il primo caso che era quello dei lampi di raggi gamma lunghi quelli corti beh si è risolto nel 2017 con la kilonova ma di questo parleremo in un'altra conferenza ed è nata così la classe delle ipernove che hanno questa è una stella che aveva 40 masse solari sulla sequenza principale quindi molto probabilmente ha formato una stella di neutroni instabile quindi ha formato un buco nero e poi ci sono le chilo 9 le supernove super luminose le supernove instabilità di coppia le supernove nell'era del Vera Rubin Telescope e dell'ILT e su questo chiudo quando passeremo al prossimo stadio io ho detto che adesso scopriamo circa 3 supernove al giorno beh il Vera Rubin Telescope quello che si chiamava LSST prima è un telescopio da 10 metri che percorrerà il cielo ogni sera e farà un grande numero di immagini si pensa che verranno trovati qualcosa come 100.000 transienti per notte 100.000 nuovi oggetti per notte 100.000 stelle nuove per notte produce 30 terabaiti di data ogni notte ora si suppone che lavori per 5 anni e quindi questo telescopio produrrà 10 milioni di scoperte di nuove supernove e ovviamente saranno molto distanti e serviranno dei grandi telescopi però di questo vi parlerò un'altra volta di nuove supernove Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi ringrazio moltissimo. Qui sotto ci sono il mio indirizzo email, scrivetemi per qualunque domanda. Adesso sono a vostra disposizione, ma se non avete coraggio, se mi vengono le domande dopo, fatemele. E molti dei filmati e delle immagini che avete visto potete scaricarli direttamente dal sito di ESO, lì c'è il link www.eso.org, poi navigate e trovate le immagini pubbliche. E c'è anche un sito nuovo appena apparso in cui c'è moltissimo materiale sull'Extreme Large Telescope, incluso il video che avete visto per ultimo. Grazie. Grazie a te Nando, è stato veramente magnifico. Io in questo momento non trovo domande. Facciamo un applauso virtuale perché vediamo i commenti che arrivano di tutti che sono entusiasmati. Grazie. Non li possiamo sentire, però ci sono. Tocca dare ragione a Luigi che ha detto grandissimo divulgatore, cioè non ci sono dubbi su queste parole. E ha arrivato anche una domanda. Io non avevo una, io mi è sfuggito un attimino quel fenomeno che hai detto che sembra quasi avvenire a velocità superiore della luce, come invece funziona quello degli echiluminosi. Sì, allora... C'è un'altra che dice cosa sono le supernove a cattura elettronica. Allora, la prima. È un pochino difficile da spiegare così con le parole, però vi faccio questo paragone. Allora, se voi siete stesi in spiaggia, avete la spiaggia proprio di fronte a voi, immaginate che le onde arrivino molto inclinate, cioè poco inclinate rispetto alla spiaggia, quindi sono quasi parallele alla spiaggia. Ora, la velocità di propagazione della luce è equivalente alla velocità dell'onda, quindi l'onda viene avanti in questo modo e sarà un certo numero. Se però voi guardate nella spiaggia il punto di intersezione fra l'onda e, diciamo, la sabbia, vedrete che questo affare si sposta, siccome le due cose si intersecano, si sposta molto più velocemente di quanto si sposti l'onda. E questo perché, diciamo, è molto inclinato. E questo, cosa vuol dire? In realtà non c'è niente che si sposta, l'onda continua a muoversi nella spiaggia. E questo punto di intersezione invece si muove lungo la spiaggia anche molto molto in fretta. E questa cosa la vedete proprio quando il vento spinge le onde. Quindi succede la stessa cosa con gli echi di luce. Non c'è materiale che si sposta, ma l'intersezione fra la luce e la polvere si muove a una velocità molto più veloce della luce. La seconda, una domanda molto interessante, questo, diciamo, è l'ultima frontiera, per questo ve l'avevo messa come uno degli ultimi bullet nell'ultima slide, quella è la formazione di coppie, sostanza. Sono, ve ne ho chiamate, PISN, Pair Instability Supernovae. E sono, diciamo, uno degli ultimi gridi. Sono delle esplosioni molto molto, ancora dunque, ancora non abbiamo una prova certa, ma quello che succede è che all'interno di stelle molto massicce si formano delle coppie elettrone-anti-elettrone, quindi materia e antimateria. Quando questi affari qua, quindi si formano queste coppie, quando si incontrano, si annichilano, diminuisce improvvisamente la pressione, l'equivalente della pressione, e non c'è più abbastanza resistenza per sostenere la forza gravitazionale, e si forma un collasso, quindi è un collasso indotto dalla formazione di coppie elettrone-anti-elettrone. Quindi oggetto, diciamo, scenario molto esotico, ma probabile, soprattutto per spiegare, supernove estremamente brillanti, di cui non vi ho ancora parlato, che sono le supernove superluminose, ma ci vuole una conferenza solo per quelle. Ma ovviamente ti aspettiamo, questo ci va senza... Ce n'è un'altra, dice, le nane bianche che generano le SN1A, sono fuori dalla sequenza principale, quindi sono stelle simili al Sole, già esplose, diventate nane bianche? Sì, sono delle stelle che sono andate, i progenitori sono delle stelle che sono andate attraverso le fasi normali di una stella come il Sole, ad esempio, diventa una gigante rossa e forma una nana bianca. Ora, una nana bianca singola in mezzo al nulla, che ha una massa appunto di 0,7 o 0,8 masse solari, si raffredda lungo la sequenza di... quindi siamo lontani dalla sequenza principale, è stata la sequenza principale, ha fatto il ramo delle giganti, e poi scende sulla linea di raffreddamento delle nane bianche, che sono molto calde inizialmente, ma poi si raffredda, diventerà una nana marrone, poi si spegne. Il problema era proprio quello, come si fa a far esplodere un oggetto così innocuo in mezzo al nulla? Beh, se è isolato, come succederà probabilmente al Sole, non esploderà mai, solo che ci sono dei casi in cui hai dei sistemi binari, d'accordo? Tipo hai un sistema binario e sapete che i sistemi binari, anche tripli, sono frequentissimi, cioè sono più le stelle binarie che le stelle singole nella galassia, quindi diciamo non è poi così raro. Se voi non riuscite per i casi della natura, che i tempi evolutivi dei due oggetti sono ad esempio simili, cioè due oggetti diventano entrambi giganti rosse, entrambi nanne bianche, e continuano a girare uno attorno all'altro, succede quel fenomeno che vi ho detto prima, iniziano a perdere, se sono abbastanza vicine, iniziano a perdere energia perché emettono onde gravitazionali e collassano uno sull'altra. Se i tempi invece non coincidono, cioè una diventa una gigante rossa mentre l'altra è già una nana bianca, le cose potrebbero non funzionare, quindi potrebbero, oppure le distanze potrebbero essere non sufficienti a fare in modo che il merger avvenga in un tempo inferiore all'età dell'universo, in altre parole. Cioè non basta avere due nane bianche vicino l'una all'altra, devono perdere abbastanza energia in modo da scontrarsi una con l'altra in un tempo che sia inferiore all'età dell'universo, perché se ci mettono 50 miliardi d'anni, vabbè non le vedremo mai esplodere. E quindi c'è questo fine tuning che fa in modo che stelle normali, come una stella prodotta dall'evoluzione del Sole, possano un giorno dare origine a delle esplosioni intermonucleari. Ok, ce n'è ancora una, dice 100.000 scoperte al giorno, saranno poi tutte classificate, immagino di sì. Allora, la risposta onesta è probabilmente no, perché non ci sono abbastanza telescopi, anche perché tenete presente, questo è un telescopio, il Vera Rubins è un telescopio da 10 metri di diametro, quindi sono oggetti estremamente, scoprirà una marea di oggetti estremamente deboli, quindi per farci uno spettro scoperto con un telescopio da 10 metri, ci vuole un telescopio da 40 metri, cioè ci vuole l'ILT per fare uno spettro della gran parte di questi oggetti, per cui l'ILT ce n'è uno solo sul pianeta, poi quando ci saranno TNT e l'altro ce ne saranno tre, insomma, e questi possono fare qualche oggetto a notte. Quindi no, la risposta è sicuramente no, e infatti stanno cercando di studiare con il machine learning e queste cose qui, per fare delle classificazioni basate non sulla spettroscopia, ma sulla fotometria, quindi dalla forma della curva di luce, poi fanno una selezione sugli oggetti più interessanti e quelli verranno passati ai telescopi da 10 metri o ai telescopi da 40-50 metri. Ok, ancora, deve essere in stato degenere il nucleo di ossigeno neon e magnesio di una stella evoluta tra 8 e 11 masse solari affinché si inneschi l'esplosione? Si forma anche qui una stella di neutroni? Questa è una domanda difficile a cui penso di non sapere rispondere. No, in realtà non è, diciamo, se non ricordo mai la domanda, se era degenere. Beh, in un certo senso sì, nel senso che le condizioni devono essere estreme, solo che quando tu hai il collasso, diciamo, del corpo, queste condizioni vengono raggiunte, il materiale, diciamo, raggiunge densità altissime e poi, diciamo, si forma una stella di neutroni o il buco nero. Quello che è la cosa che è ancora curiosa è che non sappiamo ancora quale sia, che cosa esattamente detti il fatto che si forma un buco nero o meno? Fra l'altro, l'ho sottaciuto, ma nel caso di 87A, l'abbiamo vista, sono 30 anni, la pulsera ancora non l'abbiamo vista, quindi lo smoking gun della formazione di questo oggetto compatto è estremamente degenere come una stella di neutroni, ancora non ce l'abbiamo, il che è un po' preoccupante. Se posso, anch'io, volevo fare una domanda che però era collegata a questa e forse parzialmente ha già risposto. Perché, se non mi sono sbagliata, non ho capito male, il nucleo rimasto della supernova 1987A, hai detto che dovrebbe essere di circa sei masse solari e quindi, se così è, sei masse solari, si dovrebbe formare, se quello che dicono i libri che ho letto di divulgazione, solo di divulgazione scientifica, dicono il vero, un buco nero piuttosto che una stella di neutroni, No, però mi riferivo, mi riferivo, forse non è stato chiaro, mi riferivo, cioè quella è la massa del core, la massa del nucleo al momento dell'esplosione, al momento dell'esplosione. Al momento dell'esplosione. Quindi vuol dire che... Quindi non è detto che sia quello che rimane. No, esatto. Assolutamente, chiarissimo, ecco, questo, non mi tornava a questo. Sì, è molto probabile, cioè, diciamo, la massa porterebbe... Siccome la stella aveva 20 masse solari in generale, si pensa che un buco nero si formi fra le 25 e le 30, diciamo, però non lo sa nessuno con precisione, ci si aspetta veramente la formazione di una stella di neutroni. Ovviamente il problema, come avete visto, è che non riusciamo a vedere dentro, perché ci sta formando... Cioè, noi non vediamo più la stella, vediamo il materiale espanso all'interno, qui non riusciamo a guardarci dentro ancora. Però la smoking gang sarà la detection di un campo magnetico, cioè di una pulsare a un certo punto, perché la luce della pulsare, come nella crab, a un certo punto viene fuori, vengono fuori raggi X, eccetera, eccetera. Ancora, cioè è stata cercata più volte, ancora non si vede, quindi o non si è formata, oppure hai ragione tu e si è formato, non abbiamo capito niente, si è formato un buco nero, perché in quel caso, se si è formato un buco nero, beh, la pulsare non la vedremo mai per forza. Quindi non ho una risposta alla tua domanda, solo dei dubbi. La teoria ci direbbe no, dovrebbe essere una pulsare, ma sai, le teorie, è anche vero che ci aspettavamo una gigante rossa per 87A, invece era una gigante blu, quindi dobbiamo essere pronti come scienziati a cambiare idee al giorno dopo, più dei politici. Io avevo una mia domanda personale proprio sulla 87A, perché all'inizio della presentazione hai parlato della prima volta che sono stati individuati dei neutrini legati a una esplosione di supernova. Io ricordo, all'epoca ero studente, iniziavo ad appassionarmi di astronomia, e ricordo che c'era stato anche un dibattito perché sembrava i famosi neutrini del Monte Bianco con quelli giapponesi che erano sfasati di alcune ore, eccetera. A distanza di tanti anni, i neutrini che sono stati trovati, che vengono ritenuti più legati veramente alla supernova, quali sono? Tutte e due? Quelli del Monte Bianco? Solo quelli del Giappone? Diciamo che i più certi sono quelli del Kamiokande e quelli sono quelli giapponesi. Adesso so che c'era stata questa controversia perché, come dici tu, è giusto, avevano un ritardo che era difficilmente spiegabile perché questi neutrini si producono al momento del collasso e come abbiamo visto il collasso è una questione di millisecondi, quindi diciamo anche cinque ore dopo improvvisamente c'era sicuramente, adesso non ricordo i dettagli, posso andare a cercare, c'era sicuramente stato qualche problema, avevano dei problemi con gli orologi e poi forse anche la casualità perché tieni presente che contavano gli neutrini sulle dita delle mani, cioè veramente il rumore era una cosa, adesso diciamo con Super Kamiokande e altre cose le cose andrebbero molto meglio, però la detection giapponese è stata, diciamo, era sicura, ecco, era sicura. Sì, c'è ancora una domanda che passa, ah scusa Luigi se vuoi... No, ultima cosa legata, ecco, se con il discorso che adesso siamo in grado di individuare anche le onde gravitazionali, laboratori che possono misurare i neutrini in maniera più, forse più precisa, così. Se succedesse oggi di una supernova, che immagino che tutti gli astronomi siano lì ad aspettare, saremmo in grado di legare meglio tutte queste informazioni dalle immagini, dagli spettri, le onde gravitazionali, i neutrini? Allora, con i neutrini sicuramente, con le onde gravitazionali, nel caso di 87A, no, perché per avere le onde gravitazionali hai bisogno di avere un'emissione che viene chiamata di quadrupolo, cioè hai bisogno di avere un oggetto asimmetrico che collassa, per cui 87A non la vedremmo. Infatti, la kilonova che abbiamo visto, la kilonova è il merger di due oggetti che non è una cosa sfericamente simmetrica e questo dà origine ad un segnale misurabile. Il corcollase di una stella singola fa un segnale, ma che è molto, molto più debole. Quindi, se non ricordo male, 87A non la vedremo. E di fatti, se ci pensi, uno dei candidati, vi ho detto all'inizio che noi ci perdiamo la gran parte delle supernove galattiche, cioè ce n'è uno ogni 30 anni, le onde gravitazionali però non le fermi con la polvere, come fermi la luce, per cui le onde gravitazionali potrebbero permetterci di studiare degli oggetti all'interno della galassia. Va anche detto che uno ogni 30 anni è pochino, nel senso che nel corso della vita è tanto in tempi cosmici, diciamo, cioè è molto poco in tempi cosmici, però da un punto di vista dello studio può essere che ne vediamo una o nessuna nei prossimi 50 anni. Quindi bisogna per forza spingersi al di fuori della nostra galassia, quindi affinare la... Però dovesse esplodere l'87A, adesso certo, le cose andrebbero in maniera differente, anche per i raggi gamma, per i neutrini, per i raggi X, per le onde radio. Avremmo un altro problema che è che non abbiamo più dei telescopi piccoli, perché questo a giorno d'oggi è un problema, cioè con telescopi da 10 metri osservare l'87A è impossibile, è troppo brillante. e quindi ne hanno pensate tutte, chiudere la cupola, insomma, chiudere la... che sembra come spararsi sui piedi, hanno un telescopio di 10 metri e dover chiudere la cupola o i pettari dello specchio per poterlo osservare. Infatti, verrà fatto un congresso, stiamo organizzando un congresso qui a Garkin il prossimo anno, che cosa faranno gli osservatori quando ci sarà la supernova galattica, perché la supernova galattica diventerà, se è dalla parte giusta della galassia, come quella del 1604, diventerà più brillante di Venere o più brillante come la Luna, insomma, quindi diventa che la gran parte degli strumenti diventa impossibile da osservare. Quindi è vero che ci sono i telescopi degli astrofili, però quando vuoi fare studi, diciamo, a spettroscopia, polarimetria, cioè questi equipaggiamenti e i telescopi piccoli non ce li hanno. Quindi è un problema, paradossalmente è un problema. È un problema, sì. Allora... Devono essere ancora abbastanza lontane, insomma. Sì. Ci sono ancora due domande. Una, se i GRB sono correlati a supernova con strip ed envelope e l'altra, qual è l'apporto energetico dovuto ai neutrini nell'esplosione e perché qui interagiscono in maniera costicua con la materia? Dunque, sono due domande complicate. Allora, dunque, la prima, ricordami una prima... I GRB sono correlati a supernova con strip ed envelope. Sì, questa domanda la fa un esperto o uno che si è letto diciamo delle cose perché strip ed envelope è una cosa per esperti. Certo, diciamo, per chi non lo sa, strip envelope vuol dire che è una stella massiccia che però in qualche modo è stata privata dell'inviluppo di idrogeno perché infatti il 98BW, se vi ricordate lo spettro, l'idrogeno non ce l'aveva, infatti viene classificata come un OBC e la gente si chiede ma una stella così grossa dove ha perso tutto questo idrogeno? Cioè una stella da 40 masse solari come quella di 98BW dove è andato questo idrogeno? La domanda è ancora aperta ma la risposta che la gente si dà è che sì, il suo inviluppo è stato strippato, è stato tolto molto probabilmente da un compagno. Cioè il compagno ha succhiato via questo materiale quindi la risposta è sì, i progenitori dei gamma ray burst quindi dei lampi di raggi gamma lunghi sono degli oggetti strippati sicuramente. La seconda domanda è la questione era l'apporto energetico dei neutrini. Allora, è fondamentale, io non sono un teorico quindi diciamo mi mantengo sul generale nella risposta, l'apporto è fondamentale perché senza i neutrini quei modelli che ti ho mostrato non riuscivano a far andare avanti le cose. Come mai interagiscono? Beh, questo ti dà un'idea, sappiamo che i neutrini attraversano qualunque cosa, attraversano il pianeta Terra quasi quasi senza neanche accorgerne. Se interagiscono cosa vuol dire? Che la densità del materiale deve essere estrema e questo succede soltanto all'interno di un oggetto estremamente denso come il core di un oggetto molto massiccio dopo che è collassato. Quindi è fondamentale se non riesci a intrappare a prendere, a convertire l'energia dei neutrini non riesce a far saltare per aria la stella e questo era uno dei problemi teorici che avevano quelli che facevano i modelli. Le sezioni d'urto non funzionavano, non c'erano abbastanza dati per poterlo fare, poi ci sono dei meccanismi che io ignoro che fanno sì che riescono a intrappolare i neutrini e l'energia dei neutrini viene ceduta al materiale e il materiale salta per aria perché riuscivano solo a farla collassare ma non a farla esplodere. Ok, grazie. C'è Nicola che ha alzato la mano e penso che voglia chiedere qualcosa in diretta. Allora, si discuteva molto sui famosi neutrini e la maggioranza della gente diceva che i neutrini veri erano quelli del Monte Bianco, non quelli di camion. Non quelli di camion cane. Ora invece cosa si pensa? Il contrario? Mario? No, io dovrei te le dico francamente dovrei andare a leggermi perché sono passati tanti anni e non mi ricordo più. Io sono vecchio. Io non ero così non so quanto vecchio era lei ma insomma io avevo già 30 anni quando questa cosa succedeva e no ne avevo 20 in realtà e negli anni successivi se ne è parlato moltissimo diciamo di questa cosa ma francamente non ricordo più quale fosse la conclusione forse mi sono anche sbagliato però possiamo verificarlo subito. volevo intervenire Sandro, sì volevo intervenire da una parte per ringraziare a nome del gruppo Astrofili Savonesi e penso anche di interpretare anche quello che vorrebbe dire il presidente dell'associazione Polaris per questo bellissimo intervento caratterizzato da una chiarezza espositiva veramente notevole e quindi ti ringrazio moltissimo per la bella serata che ci hai fatto passare avevo giusto un dubbio una curiosità ho proprio assistito qualche giorno fa a una conferenza relativa ai terroscopi Cerenkov che sono alle Canarie tutti dedicati ai lampi ai lampi gamma mi pare che lì stiano un po' dando la caccia ai ai lampi gamma brevi o perlomeno io ti chiedo due cose ci sono quelli lunghi e poi quelli brevi non ci sono intermedi cioè sono due classi disgiunte sì questo è stato un risultato che già si conosceva negli anni diciamo negli anni 80 soprattutto negli anni 90 dopo l'avvento di Beppo Sachs soprattutto e sì sono venute fuori questa distribuzione bimodale come l'hanno chiamata il che faceva ha fatto subito pensare a due canali di formazione completamente diversi e quando è esploso il 98 BW si è capito poteva essere certi perché restava una probabilità residua che la supernova e il lampo dei raggi gamma fossero associati per caso cioè erano lì vicino ma non avevano niente a che fare uno con l'altro perché il momento dell'arrivo dei raggi gamma è certo lo sapevano al millisecondo quello dell'esposizione della supernova no poteva anche essere esplosa una settimana prima dei raggi gamma per quanto ne sapevamo o una settimana no una settimana dopo no perché qualche giorno dopo era già lì e qualcuno diceva no era un'associazione casuale però poi nel 2003 ce n'è stata un'altra che era praticamente sputata identica a 98 bw ed era sicuramente associata perché l'immagine precedente della galassia tipo era molto recente si sapeva che non poteva essere più vecchia di top e così si è messa diciamo la stella di rosetta ha proprio rivelato ci ha spiegato come funzionavano i geoglifici per quelli corti invece sì c'erano alcune alcune possibilità però quando è stata osservata la sorgente gravitazionale 17-08-17 per oggi ero in vacanze che era fra agosto nel 2017 trovano l'onda gravitazionale e un lampo di raggi gamma corto e i telescopi ottici trovano una chilonova e la chilonova viene fuori ne parleremo nella prossima conferenza viene fuori dal merger di due stelle di neutroni e a quel punto la seconda stelle di rosetta è apparsa e si è trovata la spiegazione quindi sono due fenomeni completamente diversi quindi il collasso per dirla con uno dei nostri amici di una stripped envelope di una stella stripped envelope da una parte quelli lunghi e il merger di due stelle di neutroni dall'altra che non hanno niente a che vedere con gli altri che fanno quelli corti grazie mille grazie è stata veramente una conferenza magnifica niente in chiusura se volevamo solo ricordare chi era Vera Rubin visto che l'hai citata più volte e così perché magari non tutti quelli che sono qui Vera Rubin è una delle astronome più importanti diciamo dell'epoca moderna ha fatto contributi in tantissime aree dell'astrofisica moderna veramente una scienziata di grande vivello e il telescopio da 10 metri che si chiamava con la grande fantasia degli astronomi LSST che vuol dire Large Synoptics Survey Telescope così come il VLT si chiama Very Large Telescope e l'ILT Extremely Large Telescope grandissima fantasia è stato deciso dopo la sua scomparsa che il telescopio si chiamerà Vera Rubin Telescope quindi come l'Hubble Telescope o il telescopio Galileo se vogliamo hanno deciso di renderle onore in questo modo ed è una cosa molto giusta e molto ben fatto molto bene grazie a tutti